saranno anche belle le ciotole portagomitoli quelle di ceramica quelle con ricciolino quelle con la foggia di gatto quella appunto con la spiraletta dove far passare il filo il capo del filo e averlo tutto bello sempre teso quanto ci serve ma vuoi mettere le vaschette del gelato ma vuoi mettere quelle che quando le usi per rimettere dei surgelati nel freezer tutti rimangono fregati perché si aspettano che ne so a stracciatelle ci trovano il minestrone o le polpette o i bocconcini della minu già suddivisi nei pirottini di silicone tutti messi in fila nel contenitore ma vuoi mettere bello liscio senza impicci ecco i miei portagomitoli da youtuber o vedi un po che immagine immagine e somiglianza di chi mette da parte ciò che può servire una plastica morbida la metto nelle borse mi rimangono belle aperte io tengo dentro tutto quello che mi serve né nessuno se ne accorge e questi sono i gomitoletti i miei cincischietti che conservo vedete un ciscischietto così questo è il cotone di borgo de pazzi un cincischietto così questo invece è quello della mondia qui abbiamo la mannaggia mi venisse mai in mente è la felted quella la che conoscete tutti io l'ho trovato morbidissima la pelle non mi dà proprio nessun fastidio qui abbiamo un bellissimo cablet di lane cardate che noi non ce la potete avere perché fuori e fuori produzione e non è da mercele da banco così imparate qui abbiamo altre lane cardate questo è un mulinet di lane cardate poi poi nella mischia più conosciuta che sarebbe il la mora qui abbiamo una bellissima merino e seta 70 e 30 dipinta a mano non mi ricordo se in bulgaria mi pare questo è il cotone povero siciliano sardo per tappeti questo questo è quel cincischietto che mi ha regalata la libraia che non c'è più su a tuscania questo è sempre mondial vedete mondial il cotone quei mini gomitoletti e poi questo invece a questa è la mischia bellissima che ho utilizzato è il lino e cotone più un capo di viscosa spalmata più uno di lino finissimo dell'inificio e cannape vicio nazionale con il quale ho fatto un bellissimo chalet tricò ma anche a telaio anche tessuto con questa cosa qua così questa mischia insieme in trama non in ordito e questo questo è una lana fiammata molto allungata una fiammatura allungata non stoppino fiammato che viene dal mercato di non ve lo dico da dove questa è una di quelle meravigliose shetran originali bellissima bellissima con il quale mi sono divertita a realizzare il mio triangolino alla marina retta un triangolo con quegli alberetti nordici in fila sulle due sciarpettine anteriori che poi si annodano sotto al collo e dietro fa questo effetto così con la retta insomma spiegarvelo è carino ce l'ho sempre anche in estate a meno che ci siano 800 gradi all'ombra ma io me lo porto sempre a presto ce l'ho anche in rosa stavo facendo una mia cosa e invece non mi soddisfa e lo disperò quindi buona domenica le rondini le rondini le sentite le iris adesso ve le faccio vedere lei da ieri lei si sta aprendo ogni gambo mi porta uno due quattro boccioli di sotto me ne fanno tre la petugnetta sta bene e tutto il resto è già stato riannaffiato perché ieri non si erano idratate molto bene il gelsomino che poi sarebbe il ringosperno come che si chiama in realtà quello che avevamo finito gelsomino sta preparando i suoi rametti da fiorire e adesso vi saluto poso il mio taglia biscotti non vi metto il link del taglia biscotti perché voglio l'esclusiva che non mi danno percentuali perché non lo so se lo trovate su amazon lo vende tiger a natale però lo trovate solo a natale è il taglia biscotti renna è perfetto per il mio cellulare e non è di quelli super mega wow che pesano 8 tonnellate che hanno 1800 micro videocamere e 7000 funzioni questo astento mi permette di vedere youtube e mia figlia mi sgrida ti ho detto che non devi solo per youtube devi solo il computer cosa te l'ho messo a fare di sotto ha ragione non mi va perché non voglio pensare a 1800 in picci elettronici io uno io andavo benissimo con i miei tablet tre ne ho spaccati tre però mi sono durati tanti anni e non è stato una un rigenerarsi annuali dove gente che cambia i cellulari come cambia le mutande anzi non so se le mutande che ando così spesso e io non è che io in via dico mamma mia che cervelli però perché io ancora adesso nel mio cellulare tante cose non le conosco non lo so vedo cose che dico cosa sarà sta roba qua e non mi ci vado a impegolare perché poi faccio danni e chi me li recupera a me ah no c'è sempre vicino di casa poveraccia che come la paolina non c'è la paolina un pianto greco di un piccio la piantina grassa quale succulenta al bocciolino che sta vedete si sta per aprire adesso vado continuo a fare formelle per mia sorella come ottimizzare e fare formelle da dalla no dalla foggia diversa perché ho fatto dei triangolini ho fatto dei quadratini di quadrati ecco arrivato il gatto sulla sua cuccia grazia proprio una grazia felina adesso sto facendo questa serie qua vedete con un bordo in questo colore perché mi gestisco man mano il colore secondo di come mi rende il gomitolo e per avere varietà è capite si può fare varietà si può creare varietà con le grandi anche con soli tre colori tre colori poi vi farò vedere quanto ho potuto realizzare ma magari ci sono declinazioni che avrò ignorato ma per una questione di gusto non perché non ci sono arrivata cicca cicca mi sveglio così la mattina anche se mi fanno arrabbiare ho ritirato mia sorella a distanza e lei non lo sa perché ho lasciato i messaggi e non lo sa ma abbiamo ritirato abbiamo abbiamo un modo diverso di organizzarci quindi noi in questo ci si scontra proprio mamma mia sono tremende a presto finisco il mio tè vado a svegliare la minù le do la pappa andiamo a sporcare andiamo a vedere se la giacinta mi ha trovato il numero da nostro collega del numero speciale di maglia più cogli e sciarpe sciarpe scialli che lo spediamo alla bisnonna futura perché lei non l'ha trovato a lucca e queste cose qua andiamo poi domani parto un pacco e chissà ciao buona domenica è bella è bella sentite ci sono vedo le nuvole ma che bella è primavera io vedo le nuvole con la neve così come le vogliono i bambini e li disegnavano una volta i bambini sui fogli perché ora i bambini disegnano più i bambini non conoscono il mondo non lo sanno tanti bambini che ci sono i laghi che ci sono i fiumi che nei fiumi ci sono i pesci come nel mare ci dovrebbero essere ho scoperto che qua a Magugnano i due rivoletti d'acqua ce l'hanno i pesci perché mi raccontava il mio amico anziano qua Aldo come andavano a pescare i trucchi non ve li dico perché proprio da lasciamo perdere e ieri che carini li ho fatti contenti ci siamo radunati lì nel tavolino le nostre distanze ma che se ne frega perché tanto giorno è arrivato la settimia si gira e mi abbraccia alla faccia degli ottantenni terrorizzati se ha bisogno di questo è inutile vivere un giorno in più senza aver vissuto è giusto rispettare determinate dritte direttive se sono giuste se sono razionali se sono funzionali se veramente sono per il bene e non per il male oscuro brutto e cattivo neanche più tanto latente molto manifesto ma apriamo gli occhietti amori belli è domenica e si vedono le montagne con la neve che bello ascoltare di medici che sanno curare che meraviglia sono così contenta di aver incontrato la mia nutrizionista che mi ha instradato col metodo giusto mi ha preparata e mi ha detto eccoti qua questo è il mondo di chi si nutre ascoltando il proprio corpo e seguendo quello che viene consigliato secondo il proprio gruppo sanguigno e considerando le patologie che già uno ha e le possibili intolleranze comunque nei confronti di alimenti anche definiti come si dice positivi ecco imparare ad ascoltarsi imparare a nutrirsi come fanno gli animali come faranno gli animali a mangiare quello non quest'altro quell'erba sì quella no come fa la pecora a mangiare come fa la mucca a mangiare come fa il cane a mangiare come fanno gli uccellini quelli che sono vegetariani quelli che sono carnivori quelli che sono onnivori anche noi eravamo in grado e possiamo tornare abbiamo abbiamo delle conoscenze che vengono ostacolate ma io dico con la lista di tutto quello che ho recuperato di tutto quello che posso tenere sotto controllo con tutti gli interventi coavitato considerando i due ai tunnel carpale entrambe le mani io quando dico allora colesterolo così morbo di gilbert esiste ce l'ho rimane non è che tu non ce l'hai più se sei portatore di quello sei portatore di quello ma se non fai uso di questo questo e questo la tua bilirubina scompare non vuol dire essere solo gialli la bilirubina alta nel sangue porta stanchezza colpi di sonno proprio se viene sonno uno non deve guidare perché viene proprio la biocca devi dormire proprio spossatezza vabbè a parte la sclera gialla a parte il carnato giallo però appunto tutta una serie di fastidi mal di testa che non passa e quindi sapere come non provocarmi l'alzamento della bilirubina la presenza della bilirubina io adesso non ce n'era nemmeno traccia l'ultima volta che ho donato il sangue e ma manco mi vengono in mente tutto insomma aver riacquistato la sensibilità dove mi hanno detto con l'artrosi degenerativa è così e invece no bisogna prendere antifiammatori e invece no sono tre anni che non prendo un farmaco se non l'antistaminico ha le punture delle vespe ma poi tanti tanti che manco mi vengono in mente e quindi facciamoci un pensierino informiamoci bene non dai detrattori che è il modo più cretino di informarsi se io voglio conoscere l'opera musicale di un autore non vado a leggere le critiche non vado a leggere i detrattori vado se possibilmente magari in vita ascolto lui e vado ad ascoltarmi tutte le sue opere dalla prima all'ultima se voglio farmi un'idea di uno scrittore sul suo contenuto, sulla sua vita, sul suo stile non vado a leggere quello che hanno scritto di lui poi dopo magari per comparare una mia idea vado e leggo ciò che lui ha scritto se io volessi approcciare Hermanesse ad esempio una cosa è che legga solo Siddhartha e una cosa è che vado a leggere per prima come prima opera il gioco delle perle di vetro, il gioco delle perle di vetro ah voglio ridere, è la stessa cosa, un conto se leggo Lupo della steppa un conto se leggo anche Gertrude, un conto è se leggo tutto quello che ha scritto Hermanesse anche le sue poesie, allora posso dire, posso manifestare, posso farmi un'idea non se leggo solo il gioco delle perle di vetro, ci ho messo dieci anni io a leggere il gioco delle perle di vetro il mio libraio non me lo voleva dare, non me lo voleva vendere mi diceva, non sei pronta, non sei pronta fatevi conto quanto costavano i meridiani all'epoca poi li hanno tirati dietro, si trovavano in edicola con dieci euro mi pare anche comparando con le lire dell'epoca quindi informarsi, informarsi, informarsi e capire se ostacolano a gamba tesa certe voci ponetevi per il vostro bene o per altri tornaconti insomma, ecco noi ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli, dicono il mondo glielo diamo bene quindi buon tutto, buona informazione prima che vi cancellino i contenuti in giro cercate Sara Cugnala, arrivederci, ciao!